Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Sono Fabio Garesse e con me c'è Luca Marcheggiani. Tutto pronto? Stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. E ora si fa sul serio. Si parte. Alessandro. Un po' di indecisione. Senta e colpisce di testa. Occasione clamorosa attirata in maniera inguardabile. De Rune. Palla larga e in profondità. Josipilic. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Palla in mezzo. Petagna. L'Atalanta. Si riappropria del pallone. Può rimpostare il gioco. Cerca la fondo. Palla al piede. Manzoukic. Prova la giocata. Costa. È un grande riflessione. Grande opportunità. E c'è il gol. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Si riparte dall'uno a zero. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Palla giocata alta sulla fascia. È scattato con un tempismo perfetto. Chiellini. Aleksandro. Manzoukic. Prova il filtrante. Di bala. Bella parata. Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone. Era molto pericoloso. Petagna. La mette sulla sinistra. Ancora fuori dall'aria. Palla in profondità sulla fascia. Ecco Ilicic. Pallone in aria. Attenzione al tiro. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Manzoukic. Vuole la profondità. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La butta via e fa respirare la difesa. Prova a verticalizzare. Che dirà. Allarga sulla fascia. Palla al centro. E fa colpire di testa. Il difensore recupera il pallone. Costa decide di sfruttare la fascia. Manzoukic cerca la profondità. Marchisio con il cross. Allontana il pericolo. E il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora. Ma la partita è ancora lunga. Zero dopo il primo tempo. Partiti. E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco. Come se fossero ancora sullo 0-0. Manzoukic prova la conclusione. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Josipilicic. Petagna. Cerca un compagno. Manzoukic. Buon lancio. Cerca il tiro. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Provo a tirare. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Dici? Sì. Cercano di tenere le distanze giuste. Puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocati in profondità. Di bala! Lungo passaggio in avanti. Petagna. Arriva Alejandro Gomez. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Paolo Di Bala. E oggetto di attenzioni indesiderate. Lo marcano molto stretto. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedere gli altri chance per andare a rete. Cossi in arrivo. Incornata! Puttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. C'è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Paolo Di Bala. È andato vicinissimo alla rete. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Eccolo qui. È arrivato il momento del cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Allo già ha riconquistato palla. Arriva Alejandro Gomez. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti. Pur senza sbilanciarsi troppo. Qui deve tirare. Manzoukic! Una grandissima giocata di Manzoukic! È un vantaggio importante. Arrivati a questo punto della gara. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha sbagliato. Ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E si riparte da un netto 2-0. Manzoukic! Cerca un compagno libero! E passa! Manzoukic! Può tentare la conclusione. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata distinto questa. Può concludere. Conclusione sul fondo. Pjanic! Ottimo il fraseggio. Petagna. Pallone alto e lungo sulla fascia. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva dire... Va di testa! Niente da fare. Ha perso una buona occasione. E l'arbitro dice che può bastare. Una vittoria convincente. Una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Cosa ne pensi del match di oggi? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Cosa ne pensi del match di oggi?